8 arresti, metà in carcere e metà i domiciliari, un obbligo di dimora, due obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili, 300 mila euro in contanti e un vasto paniere di quote di 5 società del pescarese per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Sono i dati di un'operazione che ha coinvolto le province di Pescara, Foggia e Grosseto. I provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale dell'Aquila sono stati eseguiti dai militari del Comando Provinciale di Pescara e del Reparto Operativo Aeronavale in collaborazione con le fiamme gialle foggiane nei confronti di personaggi di spicco della cosca società foggiana del clan Moretti Lanza Pellegrino. Le indagini, i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche e ambientali di oltre 700 mila conversazioni hanno svelato i rami del business. Usura, estorsione, ricettazione ed intestazione fittizia di beni. Un giro d'affari milionario che nel tempo ha consentito alla cosca foggiana di infiltrarsi con metodo mafioso nel tessuto socio-economico del territorio. A inquinare ulteriormente l'economia anche l'intestazione fittizia di società attraverso una testa di ponte che a sua volta ricorreva a terzi prestanome per controllare cinque attività imprenditoriali nel settore dell'automotive, in quello dei prodotti agroalimentari e persino nella fornitura di contratti di energia elettrica.